Seconda edizione del corso di aggiornamento e perfezionamento professionale in diritto bancario e dei mercati finanziari all'Università degli Studi di Salerno. Quest'oggi un seminario introduttivo dedicato al ricordo del professor Gustavo Minervini dal titolo dallo scopo mutualistico delle banche allo scopo lucrativo. Al convegno hanno partecipato tanti ospiti illustri nel panorama nazionale. Si inizia questa seconda edizione nel nome di Minervini, un grande del diritto commerciale che sarà ricordato oggi, con la presenza autorevole di Renzo Costi, un maestro del diritto commerciale, con la presenza di tanti autorevoli studiosi che daranno il loro contributo rispetto a un tema decisivo per le sorti del nostro paese che è appunto la riforma che ha interessato il credito cooperativo e quindi rispetto alle banche di tipo mutualistico. Quindi un'opportunità per tanti studiosi che oggi sono accorsi qui, anche più giovani, di poter apprendere e dare il proprio contributo rispetto ad una tematica che è rilevante dal punto di vista economico e che a mio giudizio sarà uno di quei tasselli decisivi a seconda dell'impatto rispetto alle reali potenziali di sviluppo del nostro paese. Quali sono gli aspetti più importanti da sottolineare? Ma in realtà questo convegno ha tre scopi particolari. L'uno è diversi fra di loro ma connessi. L'uno è aprire il secondo corso in materia bancaria e finanziaria dell'università. Il secondo è riflettere appunto sulle riforme delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo. Il terzo, altrettanto importante, è riservare un omaggio a Gustavo Minervini che si è occupato di banche sia sul piano scientifico sia sul piano delle riforme dell'ordinamento. Quindi ha una triplice funzione questo convegno. A tal proposito un parere, una sua parola proprio sul professore Gustavo Minervini. Beh, è un grande giurista, un maestro di giuristi, un politico impegnato che ha saputo portare in Parlamento tutta la sua conoscenza, soprattutto di questi settori, ma non soltanto, ma in particolare di questi settori, del settore finanziario. La scuola di giurisprudenza salernitana, attraverso un momento di grande fermento e di grande sviluppo, questa è una delle tante iniziative che in questi giorni stanno prendendo il loro corso e l'iniziativa della professoressa Principe ha un ruolo particolare per il nostro Dipartimento. Il tema è di grandissimo interesse e attualità sulla questione in Parlamento via fermento perché dovranno essere licenziati degli interventi innovativi. Qui abbiamo la possibilità di ascoltare quelli che sono le menti più alte, i professori più importanti, i maestri di questo settore, il settore bancario e mutualistico. E quindi è una grandissima iniziativa questa, che gli studenti hanno la possibilità di sfruttare insieme a tante altre che stiamo portando all'attenzione della collettività accademica e non solo.